Non puoi salvarla, anche se la porti via, e poi quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi, sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. E' quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascorta, puoi ancora fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Ma... ma che cosa ho addosso? Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzini addirittura. E non ha servito proprio a niente. Hanno anche... Hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Aspetta. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Beh... Sembra ci si muova. La pia dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio la testa quando entri. Ok. Ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Ma ricavo a starle dietro. Credo che... Credo che... Che voi due saresti diventate ottime amiche. Sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a me. Sì. Ehi. Guarda laggiù. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Ok, andiamo. Aspetta. La Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia miglior amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... Lei ha detto... Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. E lì... Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto... Lottare a lungo per sopravvivere. E non... Qualunque cosa accada... Continui a trovare una ragione per cui... Lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, però... Giuramelo. Giurami che... Tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Ok. Ero. Ok. Ero. Ele. Grazie a tutti.